Molte volte noi ci sentiamo responsabili dell'esito di alcune situazioni, ci sentiamo in colpa, proviamo vergogna e appunto vediamo noi come le uniche persone responsabili di quello che è successo. Allora quello che vi propongo oggi è un esercizio molto semplice che ci può un po' aiutare a far luce su quello che è successo. Allora intanto provate a prendere un foglio e fare una lista di tutte le persone che sono state coinvolte in questa situazione. In seguito create un cerchio, all'interno iniziate a creare degli spicchi, ciascuno grande tanto quanto pensate che quella persona abbia inciso all'interno della situazione e questo vi potrà far riflettere in seguito proprio a quanto peso io ho avuto in quella situazione, cioè è proprio vero che siano io il responsabile o io la responsabile ed effettivamente fino a che punto?